Rossini TV trasmette chi la sona, chi la canta, chi l'arconta, una commedia in due atti di Franca Mercantini. Spieghiamo con la protagonista, l'attrice e l'ideatrice di questo progetto che cosa potranno vedere i telespettatori attraverso questa commedia. Dunque attraverso questa commedia potranno vedere, è una commedia tratta dall'opera di Rossini della Gazzaladra che è stata scritta nel 1885. Però io l'ho portata nel 1945 e parla della guerra, ma molti personaggi inventati dalla mia fantasia che compongono questo quadro molto allegro e anche attento e riflessivo di tante cose che succedono, quindi che sono successe poi durante la guerra. Hanno detto che sembra un film di Fellini, c'è da ridere e c'è da piangere, però il filo conduttore è la Gazzaladra in tutta questa storia. Quindi io penso che è stata gradita molto perché ho avuto una decina di repliche, penso che i pesaresi rivedendola in tv rimangono più che contenti anche i protagonisti di chi hanno interpretato questa commedia. Io penso di far felice a tutti, la commedia Parmela è bella da bestia ragazzi, guardella perché c'è da ridere e c'è da piangere. Quindi io l'ho scritta con tutto il cuore e con le lacrime, l'ho scritta ridendo, l'ho scritta pensando a Pesaro, alla mia città e al mio pubblico che amo tanto. Grazie.